Allora iniziamo con le relazioni dei coordinatori dei gruppi di lavoro, Simono Gionni che ha coordinato il gruppo scuola, università e beni culturali, seguirà Lucrezia Ricchiuti. Non sono folena, però cito Berlinguer che anche a Pietro Folena è molto caro. Lo faccio perché anche se il riferimento è ambizioso voglio ricordarvi che nel 77 quando Berlinguer chiude il convegno degli intellettuali al teatro Eliseo a Roma lo fa con tre concetti che io penso siano molto utili anche per la discussione che abbiamo fatto e che facciamo questa mattina. Il primo, il convegno, quel convegno ma anche l'incontro più modestamente, molto più modestamente che abbiamo fatto ieri non è un risultato compiuto ma è il frutto di una ricerca e di un lavoro comune, collettivo. Secondo, ogni progetto di trasformazione compreso il nostro deve essere, diceva Berlinguer, discusso tra la gente e con la gente perché noi non abbiamo dottrine o schemi preimpostati ma abbiamo il compito di percorrere vie nuove, vie non ancora esplorate e cioè inventare qualcosa di nuovo. Questa è una cosa che a me ha sempre colpito moltissimo che stia sotto la pelle della storia e punto terzo per questo motivo perché le vie nuove stanno sotto la pelle della storia è naturale che il primo momento di questo lavoro sia l'incontro con le forze più creative, con le forze intellettuali, con la cultura. Noi siamo, lo ripeto ancora molto più modestamente, a questa altezza del cammino, ai primi passi perché vogliamo aprire una campagna di ascolto, vogliamo iniziare a coinvolgere le risorse, le energie, le forze che nel mondo della ricerca, della scuola, dell'università italiana si muovono. E quindi il primo impegno che noi assumiamo, ci assumiamo come articolo 1 è strutturare da domani gruppi di lavoro sui saperi critici con l'obiettivo di costruire una commissione permanente di inchiesta, approfondimento, elaborazione programmatica. Perché noi iniziamo a mettere soltanto le prime pietre, ma il programma, il lavoro di ricerca, di scavo, di approfondimento lo faremo insieme. Ci impegniamo a farlo con umiltà, questo è un obiettivo che ci siamo posti, non soltanto perché l'umiltà è l'antidoto all'arroganza, ma anche perché, per il semplice motivo, che sin qui forse anche noi abbiamo sbagliato. Perché quando nel 2015 l'allora ministro per le riforme, Elena Boschi, dice per difendere la buona scuola che i sindacati avevano occupato la scuola e la scuola occupata dai sindacati non poteva funzionare, ebbene lì si determina una rottura, una frattura, una faglia tra il centro-sinistra e il nostro popolo che ancora oggi non si è ricomposta. E agire con umiltà significa provare a ricomporre quella frattura, perché l'idea, il principio che ci sia un uomo solo al comando, sia dentro un partito, sia nelle scuole, con i presidi manager, è l'esatto contrario di ciò che la sinistra in questo paese ha fatto dal dopoguerra in poi. È esattamente il contrario di quello che Don Milani ha insegnato, che una o due generazioni di resistenti hanno in qualche modo provato a proporre al nostro paese. Lo voglio dire in maniera un po' polemica, ma quando Veltroni dice che noi siamo nostalgici del Novecento, forse ha ragione, perché noi siamo nostalgici di una stagione in cui la sinistra difendeva i lavoratori, ma difendeva anche il mondo della scuola, gli insegnanti e gli studenti. Ebbene, noi abbiamo iniziato ieri un'analisi che poggia su alcuni punti fermi, li elenco in maniera molto schematica e rapida. Il primo punto è la constatazione che oggi la funzione pubblica dell'istruzione e della ricerca vive grazie al lavoro precario, cioè un lavoro privo di tutele, di diritti, di garanzie, di stabilità e di dignità. Vale nella scuola, con il blocco indegno del contratto da più di otto anni, vale nei musei che rimangono aperti ogni giorno grazie al contributo di migliaia di lavoratori sottopagati, vale nelle università che funzionano grazie a un precariato che seleziona per classe la professione di ricercatori, dottorandi e docenti. Io penso che la protesta di questi giorni dei lavoratori precari della Biblioteca Nazionale di Roma sia emblematica e noi da qui diciamo grazie a questi lavoratori e diciamo che siamo al fianco della lotta che queste donne e questi uomini stanno combattendo per la dignità della cultura in questo Paese. Il secondo elemento riguarda gli investimenti. Negli ultimi anni in Italia gli investimenti pubblici per l'università sono diminuiti del 22%, nello stesso periodo sono aumentati del 23% in Germania. C'è un problema gigantesco che riguarda gli investimenti e c'è un gap enorme che si allarga tra noi e l'Europa. In nove anni il taglio al fondo del finanziamento ordinario di un miliardo su sette vuol dire il taglio del 20% del tecnico del personale amministrativo con il blocco del turnover vuol dire la contrazione della didattica, la diminuzione dell'offerta formativa e del finanziamento per la ricerca. E mentre lo Stato consegna al più grande ente pubblico di ricerca che è il CNR che ha 8.500 dipendenti qualcosa come 500 milioni all'anno finanzia un soggetto di diritto privato come il Tecnopol di Milano con 145 milioni all'anno per otto anni. Io penso che anche questo sia un problema che la sinistra si deve porre. Ma perché? Terzo punto di analisi. Questo avviene. Avviene perché il ragionamento che abbiamo fatto ieri semplicemente la cultura è diventata una merce. Perché è avvenuto un divorzio di quel connubio che doveva essere inscindibile tra tutela dei beni culturali e valorizzazione che è dentro l'articolo 9 della Costituzione che in nome della valorizzazione ha trasformato la cultura in merce esattamente come avviene nel mercato del lavoro dove il Jobs Act dice che anche se tu vieni licenziato senza giusta causa lo Stato non ti reintegra perché il diritto al lavoro, la tua dignità ha un prezzo e anche quello viene monetizzato così nel lavoro così nella cultura nella scuola e nell'università tutto è merce tutto si vende e tutto si compra ma questo è un problema culturale oserei dire filosofico generale da cui la sinistra deve ripartire. Allora concludo perché questa è la parte diciamo destruence del ragionamento. Noi abbiamo iniziato un lavoro come dicevo di inchiesta proponendo alcune cose molto semplici che in conclusione vi espongo provando a dire però che servirebbe radicalmente trasformare in radice la buona scuola per proporre finalmente una legge quadro sulla scuola, l'università e la ricerca in cui tutte le componenti della scuola, dell'università e della ricerca abbiano voce in capitolo non che siano convocate qualche volta al ministero e vengano nei fatti inascoltate ma che vengano coinvolte in un grande progetto di costruzione del futuro che vorremmo a partire da alcuni punti che noi suggeriamo. La prima sulla valutazione. Noi non siamo contrari alla valutazione ma siamo contrari agli invalsi per gli studenti al preside che nelle scuole decide e giudica sulla base della fedeltà il lavoro dei docenti siamo contrari al VQR e all'università. Alternanza scuola-lavoro Secondo punto. Non si può trasformare una opportunità in sfruttamento del lavoro minorile perché collocare gli studenti di un istituto professionale o di un liceo alla cassa di un McDonald's o di un autogrill penso che non sia nello spirito della legge e penso che non sia accettabile per una sinistra che vuole cambiare anche il rapporto tra lavoro e scuola. Terzo punto. Il diritto allo studio universitario. Articolo 34. La Repubblica ha un compito e un dovere e l'Italia non può essere il paese in cui ogni anno 50.000 ragazzi vincono le borse di studio perché ne hanno diritto ma non possono riceverle perché non ci sono i soldi. Questo è uno scandalo tutto italiano che noi dobbiamo impegnarci a superare. E poi infine, concludo veramente, i beni culturali. Ieri abbiamo ascoltato decine di proposte che corrispondono ad altrettanti grida di dolore. Io la dico così. Apriamo una campagna di ascolto a partire dalle biblioteche di paese, dalle realtà più piccole e poi saliamo fino alle sovraintendenze, agli archivi di Stato, ai musei. Chiediamo loro al personale, ai dirigenti, agli impiegati, agli operai una o due proposte e torniamo a tessere a partire da lì. Ripartiamo da lì. Ripartiamo, come diceva Berlinguer nel 77, dalla gente, dalla nostra gente. Ricostruiamo un programma, un'analisi, un'idea, un pensiero che dica quello che la sinistra vuole dal suo futuro e anche dal futuro dell'Italia. Grazie.